Non io, direi che qualcuno che personalizza la politica, dimostrando peraltro mi sembra pochezza di idee. Io non ho mai sentito dal segretario della Lega, dall'attuale segretario della Lega, un discorso costruttivo, ma ho sempre solo sentito dei discorsi distruttivi, oppure delle ipotesi, delle faccillonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabili.